Come il BOM, il Browser Object Model, ci mette a disposizione una serie di funzionalità e di proprietà per agire, manipolare in un certo senso la finestra del browser e le sue funzionalità, il Document Object Model, il DOM, ci permette invece di manipolare l'interno della pagina HTML. Quindi non il menu, non l'avanti e indietro nella history del browser, ma appunto il contenuto della pagina HTML. Allora, il DOM esiste da diverso tempo, da prima del 1998, è stato parzialmente specificato in HTML4 ed era tipicamente utilizzato per accedere agli elementi più interattivi della pagina. Perché? Perché essendo interattivi magari c'era bisogno di manipolarli in maniera più pressante. Poi, man mano che passate il tempo, è diventato prima di tutto una raccomandazione della W3C per appunto manipolare molti, tutti, diciamo, gli oggetti HTML. Il DOM è un concetto, è una proprietà che non è ovviamente specifica di JavaScript, ma è qualcosa che i browser hanno. Quindi il DOM esiste indipendentemente dall'esistenza di JavaScript, perché è un albero, è una struttura di modello che anche volendo altri potrebbero, da non JavaScript potenzialmente si potrebbe utilizzare, nel contesto del browser è stato implementato ed è accessibile unicamente all'interno di JavaScript. Però non c'è un collegamento uno a uno con JavaScript. Nel passare degli anni, come vedete, il DOM è diventato sempre più completo, aggiungendo sempre più funzionalità, che all'inizio magari non c'erano, e a partire dal 2015 è diventato uno standard living come HTML5, quindi in continua evoluzione, quindi non esiste al momento un level 5, ma siamo fermi al level 4, modificato in continuazione, e a partire dal 2015 abbiamo anche avuto una serie di cambiamenti che non sono più stati compatibili col passato. Quindi il DOM, la manipolazione del DOM che facciamo oggi, potrebbero non funzionare in, per esempio, browser rilasciati nel 2004, proprio perché alcuni cambiamenti non sono più compatibili. Ha ovviamente una sua specifica, un suo sito, dove se volete potete leggere lo standard. Vedete che l'ABSAR dice che il DOM definisce un modello neutrale rispetto alla piattaforma per gli eventi, le attività interrompibili e alberi di nodi. Nel mondo browser, nel mondo HTML, questi eventi, queste attività e questo albero di nodi sono poi manipolati, acceduti, attraverso JavaScript. Però di nuovo non c'è un mapping 1 a 1. Questo l'abbiamo già visto quando abbiamo parlato di HTML, che il DOM è la rappresentazione interna di una pagina web, ottenuta attraverso il parsing dell'HTML, e appunto, dato che è una rappresentazione del browser di una pagina web, il browser ci espone dei metodi, delle funzioni, così che noi possiamo andare a recuperare, se volessimo, questo specifico elemento, navigando questo albero in qualche modo. E cosa possiamo fare in JavaScript? Possiamo accedere a quasi tutte le proprietà del DOM di una pagina web in vari modi. Possiamo accedere ai metadati, possiamo accedere al leader, possiamo ispezionare la struttura della pagina, possiamo modificare il nodo, possiamo modificare degli attributi, dei nodi. Possiamo anche addirittura aggiungere dei nodi, aggiungere nuovi elementi HTML o cancellare elementi HTML. Possiamo modificare lo stile CSS al volo da JavaScript. Possiamo agganciare, e questo è molto importante, o rimuovere dei listener sugli eventi. Quindi è qualcosa che ci dice quando clicca su quel bottone lì, e proprio su quel bottone lì, questa cosa deve succedere. Quindi agganciamo della logica al comportamento, diciamo, statico, che ci viene offerto da interattivo, aggiungiamo dell'interattività al comportamento statico che ci viene offerto da HTML, CSS, diciamo, senza JavaScript. Quanti tipi di nodi abbiamo? Abbiamo diversi tipi di nodi. Il nodo è uno di queste cose. Ovviamente document è un nodo, ed è la radice di tutto l'albero. Ecco perché quando nel browser scriviamo document, vediamo l'intera pagina HTML, perché vediamo l'intero albero sottostante. Element è un tag HTML. Qualunque tag HTML è un element. Molti attributi sui nodi si applicano anche, ovviamente, agli element. Il testo all'interno di un element è a sua volta un nodo, ma non è un nodo, ma non è un element. Quindi a è un elemento, il testo è un nodo, ovviamente, ma è appunto un nodo di tipo text, non è un element. Quindi avremo magari delle funzioni che si applicano ad element e che non si possono applicare a text, perché il text non è un element. Le funzioni di nodo si possono applicare invece a tutti. Abbiamo poi atr, che sono gli attributi di un tag, per esempio href, comment, un eventuale commento, e document type, come un nodo specifico, che appunto è la declarazione doc type presente all'inizio della pagina HTML. Gli oggetti nel DOM sono istanze di questi nodi, di questi tipi di nodi, in una gerarchia. Quindi, per esempio, questo text è figlio, è di tipo text, ed è il figlio di questo. Questo HTML input element è un element, ed è il figlio di questo HTML element, che è il figlio di questo, che è il figlio di nod, eccetera. La manipolazione del DOM avviene principalmente attraverso l'accesso e l'impostazione di liste o insieme di nodi. L'avere un metodo che restituisce un singolo nodo è un qualcosa di abbastanza raro. Esistono, ma è un qualcosa di abbastanza raro. Tipicamente manipoliamo insieme liste di nodi, per cui abbiamo un tipo specifico, che si chiama nod list, che appunto è un array, una sorta di array di nodi. Quindi, manipolando il DOM, noi potremmo ricevere un singolo nodo, oppure potremmo ricevere una lista di nodi in un oggetto JavaScript, che si chiama nod list. Questo nod list, essendo simile a un array, può utilizzare la maggior parte dei metodi dell'array. Ha un length, ha una sola lunghezza. Se vogliamo accedere all'elemento 5, ci basta scrivere punto item di 5. Ha gli iteratori entries, key e values, che funzionano come per lì per l'array. Ha il for each e supporta anche il for off, esattamente come un array JavaScript normale. Dove, tra questi modi, la differenza più sostanziale è questa. Non possiamo scrivere la variabile di tipo nod list aperta a quadra 5, ma dobbiamo scrivere la variabile di tipo nod list punto item di 5, per accedere al sesto elemento dell'array.